Ecco come creare un livello con Secret Mario Già ho iniziato, ma adesso ve lo rifaccio vedere Non so che cosa possiamo scrivere Scriviamo un nome così, poi potete scegliere Allora, mi esce una schermata così Se non avete cose dovete fare Volete fare questo Allora, vediamo che cosa volete mettere per farla camminare Ci stanno tutte quelle cose Green Ground Cioè ci stanno questi Che tipo mai la cammina sopra E poi vedi Half Massive Significa che appena prendi il tasto giù della tastiera Su cadi Invece se metti Massive Cioè Comunque non cadi Oppure se per me Come devo dire Giù, niente E poi se ci passi vicino Niente Quindi è Half Massive Ci passi vicino E passi normalmente Però ci puoi anche salire sopra Poi ci stanno Clean Bubble Che Mario si aggrappa Così vediamo Ho messo good Il trucco Vedi? Mario si aggrappa Pochi ci stanno Passive Passive Ci passi davanti Non ci puoi andare nemmeno sopra E Front Passive Ci passi ma ti puoi stare di fronte E Massive è quello che vedi da sopra E Ecco qua Questo è detto Poi ci sta Poi mano a mano si possono mettere Ma Potete anche vedere dalla guida con F1 Anche se in inglese Chi lo capisce Lo capisce Io lo capisco e quindi Lo posso leggere E Si è scritto anche qua Massive Red Half Massive Orange Clean Bubble Lil Lilla sarebbe no? Passive Green Front Passive Green Sempre green Vabbè comunque Eh aspetta Questi numeri tipo Servono per fare questo Schiacciate con il mouse Premete Per Diciamo 2 E vedi? Vabbè giusto giusto di uno più giù Poi andiamo sopra con 8 6 Si spostiamo A destra E 4 ci passiamo a sinistra Beh comunque poi Voi li mettete tutti quanti Che sono tutti quanti qua Ehm Poi Questi sono sempre la stessa cosa Vabbè comunque Qua potete uscire tutto I nemici Ecco qua i nemici Questo Potete anche spostare Maia così C'è da adesso per amore Vabbè questo Parte 2 Stavamo dicendo Vediamo Vediamo altri nemici Ah Una cosa Vedete che io scorro così Facile facile Si fa con la rotellina O potete schiacciare così Fare così Questo sicuramente qua Devo sapere Ehm Vabbè Poi ci stanno certe cose Che si possono fare Tipo così Schiacciate due volte Con il tasto sinistro sopra Ehm Ebbene Questa volta Distanci La distanza 200 Tipo mettiamo 20 Guarda com'è piccola La linea Mettiamo 2000 Ed è lunghissimo Guarda Poi Ah Una cosa Per cancellare le cose Sta Tasto destro Ecco Vabbè Poi Vediamo che ci sta più Rocco Se ci schiacciate sopra Sembra Speed Velocità E questa Potete mettere anche in questo modo Che vi posso far vedere più Vediamo 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 Ah Per mettere lo sfondo Setting Aspetta un attimo Allora sta così appena mi inizia Voi dovete basta fare O così O Una spinta con la rotellina E va direttamente giù E qua c'è il setting Schiacciate Allora 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 Qui c'è la musica Tipo mettiamo Land Creeper Uno Punto E non E non scordate mai Oggi Punto oggi Ehm Poi Autor L'autore tipo Ciro 59 N Versione La versione del livello Quante volte l'avete modificata Quante volte l'avete modificata? Zero Sì Robi Se hai preso 10 minuti Ehm Parte Terza Scusate Era andato a mangiare Allora che stavamo facendo? Questo? No ho sbagliato Non ho sbagliato No ho sbagliato Allora Più che cosa bella di video dovevo spiegare Vediamo 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 Mi pare che vi ho spiegato tutto ma dovevo spiegarvi i setting Allora Allora Questa musica l'ho messa Allora Questa musica l'ho messa Già l'avevo fatta ma so però poi l'ho messa Non è Wayne Sbaglio Io ho messo Per mettere lo sfondo Allora Aggiungiamo Vabbè Qua Tipo Ehm Qua Cambiate Cioè Tipo ci sta Moontain Ehm Le montagne Vabbò Vi faccio vedere qua Qui Sono i colori Pò Uno Hanno 15 115 viene questo colore qua poi volete anche mischiare così vedi come vi piace tipo così pure carino però la musica un po' non mi piace comunque meglio questa che posso a questo non lo so fare nemmeno io comunque si vuole mettere partiglante bla 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 e ti esce una cosa poi qua questo non so fare non chiedete a me però per me che è un partiglante penso di far solo fare un po' io non sono un esperto però allora dobbiamo mettere sta due poi quota con cinesi belle vero volevo dire una cosa f2 non schiacciate f1 non vi è scelto pure f2 f3 esce questo f4 viene così f5 non niente f6 guarda qua oh va scatti mi piace veloce con f6 con 0 ecco f7 invece niente f8 a livello edito 29